Trasforma la vita del tuo cane ansioso e riporta armonia nella tua famiglia. Con oltre un decennio di esperienza in ambito cinofilo, ho affrontato e risolto con successo questi problemi. Inoltre, grazie alla mia competenza in floriterapia e altre metodi naturali, consiglio trattamenti mirati e personalizzati per lenire l'ansia del tuo amato amico a quattro zampe. Se poi dovessi assentarti, posso offrire ospitalità nella nostra Doga House a Roma a cani ben socializzati ed equilibrati dove il loro comfort è assicurato, riscaldamente in inverno, aria condizionata in estate, passeggiate giornaliere al parco, aggiornamenti fotografici e video. Contattami ora per un colloquio informativo gratuito. Telefono 392 51 30 408